devo bucare qui ho già fatto il segno sta proprio sul croce delle mattonelle da una parte fa comodo ma da un'altra non fa comodo per niente perché le mattonelle sono tonde sul bordo fatti se provo con la punta non riesco a allora qua ci mettiamo bello bello questo un feltrino e facciamo il segno non serve prima magari utilizzando una punta più piccola sempre fa tutto molto più facile ne ho solo questa solo l'auto e qui ne dovranno andare in docina è facile lavorare con tutti i prezzi propri ma e allora via e voilà eccolo qua ed ora non manca che a mettere lo specchio ciao 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 sono accesi tutte e due doppia presa è così se uno vuoi deve smontare alla fine rimarranno le prese dopo un po più pulito adesso andiamo a montarlo abbiamo montato la prima spegniamo le luci se non si deve nulla ecco qua adesso per ora e poi questa è fatta Grazie a tutti